Preoccupazione da parte dei sindacati anche su Maserati e CNH, vogliono sapere i piani industriali, ci racconta tutto Fabrizio Monari. Preoccupazione mista a speranza, questi due stati d'animo che accomunano i lavoratori delle cugine Maserati e CNH, entrambe legati al gruppo Exor, titolare a Modena di due importanti stabilimenti in attesa di conoscere nei dettagli il proprio futuro. Annunce promesse ci sono, i piani finanziari pure, non quelli industriali, lamenta soprattutto la FIOM, senza dubbio la più pessimista delle tre sigle confederali, che racconta la propria tensione, in particolare per la fabbrica del Tridente, che perderà due modelli dietro la promessa di uno nuovo, ma intanto torna in casa integrazione fino a gennaio. I lavoratori sono continuamente sospesi attraverso l'ammortizzatore sociale che abbiamo messo in campo e che scadrà il 31 di gennaio. Siamo molto preoccupati perché abbiamo notizie di una imminente uscita di produzione dei modelli che oggi sono attualmente in produzione, e questo determina un buco produttivo tra l'uscita dei vecchi modelli e l'entrata del nuovo modello che è stato annunciato, ma noi ancora oggi non abbiamo ancora visto traccia di questo modello. C'è già stato stanziato diversi milioni di euro, ci sarà un discorso che riguarda la verniciatura che verrà fatta all'interno dello stabilimento di Ciro Menotti, si parla dei motori, si parla quindi di quello che sarà il cuore poi della nuova vettura che uscirà. Quanto a CNH non è il ramo agricolo ad essere oggetto dell'imminente scorporo annunciato nei giorni scorsi, ma CNH Industrial non di meno il riassetto del gruppo è tema di grande interesse per i sindacati che reclamano incontri di chiarificatori a livello sia nazionale che locale. È evidente che è un'operazione finanziaria a livello nazionale, su cui abbiamo anche chiesto incontro a livello nazionale, per capire il percorso che hanno in mente, non c'è ovviamente una preoccupazione, una preclusione, ma sicuramente quello che chiederemo a livello nazionale sarà garanzia occupazionale degli stabilimenti, degli investimenti in Italia, continuità eccetera. È chiaro che questi sono gli aspetti che devono essere confermati, se non dovesse essere così è chiaro che la preoccupazione ci potrebbe essere. Grazie.